Area camper all'abbadia di Fiastra. Da pochi giorni è possibile accedere alla nuova area attrezzata, un segno concreto che esprime la volontà di rinascita turistica del nostro territorio in una delle zone simbolo dell'accoglienza. L'abbadia di Fiastra si conferma infatti una delle mete preferite per trascorrere una sana giornata all'aria aperta, tra il verde, la natura e lo sport, insieme alla splendida abbazia riaperta dopo il sisma. I primi camper, nelle belle giornate d'inizio primavera, hanno già abbarcato la sbarra che dà accesso all'area, con 50 ampi piazzole separate da siepi e piccoli alberi. Ogni posto è corredato di prese elettriche e nell'edificio di servizio, a ridosso dell'ingresso ci sono lavandini, doccia a gettone e a breve sarà attivata anche una connessione internet wifi. I camper, tanto richiesti in questi mesi dopo il sisma, potranno tornare a svolgere la loro principale funzione di mezzi del relax e di viaggi itineranti a tappe. Nelle domeniche più affollate, chi sosterrà nell'area potrà godere fino in fondo gli spazi e la bellezza della riserva naturale dell'abbadia di Fiastra, situata nel cuore delle Marche.